Sono stati interminabili gli applausi al Toselli durante lo spettacolo Una giornata particolare interpretato da Giulio Scarpati e Valeria Solarino. La rappresentazione, ambientata nel giorno in cui Hitler fece visita a Roma, ha saputo davvero trasmettere forti emozioni con dialoghi ricchi di drammaticità che in alcuni momenti hanno saputo lasciare anche spazio ad un sorriso. E proprio di emozioni ci ha parlato anche Giulio Scarpati. Guarda che posso dirti, posso dirti che insomma questo è un mestiere che io adoro e che ti mette in contatto tutti i giorni con l'emozione e quindi è un piacere ogni sera sperimentare quello che arriva dall'altra parte, quello che ti restituisce il pubblico. Allora vedere il racconto emotivo che prosegue con le persone che stanno di là è una grandissima emozione. Quindi è soprattutto il teatro una cosa impagabile per chi lo fa sul palco scenico ma anche spero per chi lo vede perché per chi lo vede poi ha un'emozione in diretta che altrimenti non avrebbe anche vedere un film dove magari uno si emoziona però non è la stessa cosa che vivere la carne viva che sta di fronte a te.